Pasquetta in zona rossa, domani si torna alla zona arancione, qualche apertura in più soprattutto per quanto riguarda i negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, estetiste ma intanto per oggi non si può fare altro che una passeggiata fortunatamente è una giornata di sole, la gente è tutta molto ordinata ed osservante delle regole quindi del distanziamento, non abbiamo trovato assembramenti qualche macchina delle forze dell'ordine che passa e controlla è una Pasquetta all'aria aperta Com'è questa Pasquetta in zona rossa? Calda, meno male, bisogna approfittare appena c'è un po' di sole E per il resto non si può fare nulla? Purtroppo no, poi io anche faccio un lavoro che lavoro sul ristorante perciò niente, dobbiamo aspettare tempi migliori diciamo Quali sono le speranze per il suo settore? Eh, di riaprire il primo possibile, assolutamente, non c'è alternativa Certo oggi se i ristoranti fossero stati aperti era una bella giornata di lavoro Assolutamente, ma sicuramente le persone sono più controllate dentro i ristoranti E quando stanno dentro casa è fuori che non è controllate Dentro i ristoranti più di quelli non ci fai andare A casa la gente ordina anche 15-20 pizze La gente un po' è uscita, certo, le setteze ci sono Bella non è Campagnate non si possono fare, pranzi al ristorante, niente? Assolutamente no, giustamente Pranzi in famiglia, ma speriamo che il numero dei componenti sia stato minimo Sperando C'è rimasta solo la speranza qui E i vaccini, i vaccini che purtroppo noi stiamo in ritardo, in forte ritardo Oltre a una passeggiata in questa Pasquetta in zona rossa che si può fare? Eh niente Oggi come oggi, con questa zona rossa, con questa epidemia Non devo fare nulla, facciamo il gioco dell'uva, ognuno a casa sua È stata una Pasqua un po' triste? Eh certo, è triste, non si saprà come andare a finire Oggi è una bella giornata, respiriamo un pochettino di aria pura E ci sgredchiamo un pochettino delle gambe della mangiata di ieri Dalla costa alla collina la situazione non cambia C'è gente che cammina, che passeggia, che cerca di godersi un raggio di sole Pasquetta in zona rossa si cerca di stare un po' all'aria aperta? Sì, sicuramente sì, perché ne abbiamo tutti una necessità impellente Domani riapriranno i negozi, insomma si ricomincerà un po' di vita anche commerciale? Sì, sicuramente sì, però il danno che è stato fatto non si recupererà mai più I veri danni si vedranno successivamente, non adesso